Questo è il caso della RobertSRL, una compagnia di certificazioni che sta per essere acquisita da un importante multinazionale. Evidenti prove mostrano che il data center è ormai obsoleto. Ha bisogno di aumentare nel più breve tempo possibile i livelli di performance e la disponibilità dei servizi agli utenti per mantenere l'azienda competitiva sul mercato. Il team di IFI Consulting, silver partner di HP, studia il caso e trova nella Converged Infrastructure di HP la soluzione su misura per integrare con facilità server, storage e rete in un'unica infrastruttura, integrata, completa e al passo con l'evoluzione tecnologica. La tempestività e l'accuratezza del servizio di IFI Consulting sono state decisive per il successo del caso, come risulta dalle prove. Maggiore produttività, gestione semplificata e maggiore integrazione, consumi di energia, spazio e costi ridotti. Questo è il caso della RobertSRL, tratto da una storia vera. E il tu?